Ciao a tutti e tutti da Giardinaggio Irregolare, oggi vorrei parlarvi di questo, un manga, il grande sogno di Maya. Probabilmente come me avrete visto il cartone animato degli anni 80, io ne sono rimasta terribilmente affascinata. Oggi sinceramente a rivederlo preferirei un calcio nella rotula perché i disegni non sono il massimo. Sebbene ci fosse la sacra manina di Shinguaraki, credo nel character designer. Ad ogni modo questo cartone animato mi è rimasto impresso. L'anno scorso, a causa del Covid e del tempo che purtroppo ne abbiamo avuto tanto a disposizione, abbiamo volentieri impiegato in attività remunerate, molti di noi hanno recuperato antiche passioni, antiche, nel mio caso voglio dire antiche. Per me, io sono sempre stata un amante dei fumetti giapponesi, dei cartoni animati, dei fumetti giapponesi. Tra l'altro condivido questa passione con un membro, un ex membro dell'ex forum di giardinaggio. Io non lo sapevo, l'ho scoperto navigando in rete questo signore che alla mia età è un conoscitore fortissimo di questo manga. Ecco, questo un po' mi dispiace che avrei tante cose da dire del forum di Compagnia del Giardinaggio, ma alla fine che molti di noi ci siamo incontrati e abbiamo parlato solo di un argomento senza poi condividerne altri, se non in altri spazi o in momenti in cui ci incontravamo fisicamente, è stato un po' un peccato perché magari avremmo avuto qualcosa di cui parlare, qualcosa in più di cui parlare, qualcosa di più personale da condividere e magari le amicizie sarebbero rimaste un po' più salde, un po' meno liquide. Tra l'altro stavo pensando che magari lui avrebbe potuto vendermi la collezione. Quando l'ho scoperto ho detto, ma chissà se lui ce l'ha ancora o se l'è già venduta, perché comunque ha un prezzo. Se poi uscirà il numero 50 che sarebbe dovuto uscire l'anno scorso, questa aumenterà molto di valore. Perché questo manga? Perché Lidia ci viene a parlare di questo manga? Perché questo manga, non vi dirò come tanti altri, è uno dei manga più belli mai pubblicati in Giappone. No, non è così. Sicuramente è uno dei più interessanti. Ed è uno dei manga che, semmai si farà una storia del manga giapponese in Italia, è uno dei manga che ha già il suo posticino in quella storia lì, se non altro per la vicenda editoriale, perché l'autrice su Zue Miuchi è dal 76 che l'ha fatto partire e proprio non lo vuole chiudere, ma lo diciamo anche molto apertamente. Non credo abbia molta intenzione di chiuderlo. Ci sono state delle anticipazioni sul numero 50, ma alla fine non credo che andrà oltre questo numero. Allora, questo manga ha tantissimi pregi e tantissimi difetti ed è un manga molto complesso comunque, perché è complesso. Non tanto per l'introspezione. L'introspezione di questi personaggi è quasi lo zero termico, no? È quasi il punto in cui l'azoto diventa ghiacciato. Allora, perché piace così tanto? E piace così tanto sicuramente anche in Giappone, altrimenti la Kusensha non lo continuava a pubblicare. Perché comunque coinvolge dei temi che ai giapponesi sono molto cari, cioè quelli della continuità temporale, della ripetizione e della contrapposizione degli opposti. Quindi un fumetto con tanti pregi e tanti difetti. I difetti sono più legati alla questione grafica. Su Zuemiucci inizia a lavorare presto, abbiamo detto, giovanissima, e in qualche modo probabilmente paga questi suoi inizi giovanili da autodidatta. Sembra che poi non abbia voluto in qualche modo compensare questa sua mancanza di istruzione nel disegno. Perché poi questi errori se li ha portati avanti a lungo, fino alla fine, fino a questo numero 49, si vedono e si vedono pesantemente. Non si tratta di peculiarità stilistiche, si tratta di errori punto e basta. non si possono derubricare A. Ormai sì, forse. E sai, sono 30 anni che ce lo leggiamo, sto fumetto, quindi ormai siamo abituati a che le spalle gli escono dal rene. E dice, vabbè, ormai, i profili. Sui profili, mamma mia. Il personaggio che ne esce veramente più disastrato è Masumi Ayami. Masumi Ayami, quello alto, che nel primo anime è biondo, poi gli hanno fatto i colori di più o meno di tutti i colori. Gli mancavano il blu e il verde, poi li hanno messi tutti. E Zebrato, poi veramente l'hanno fatto di tutti i colori. Castano, biondo e proprio con i capelli neri negli anime. E cercano sempre di rendere un pochettino più bello, perché nel manga effettivamente si capisce che è un bell'uomo, ma non è bello, non è attraente, non è disegnato bene, ha un profilo orrendo, dei capelli che non si capisce come sono. Insomma, è disegnato veramente, non è il classico bonazzo da manga giapponese. Si capisce che sei bello, sì grazie, ma anche perché ce lo dicono. Quanto sei bello, il giovane presidente Ayami, quanto è bello tutte le donne che gli stanno dietro. Ma, insomma, alla fine poi, l'uscita è grande e bellezza, ma mi pare che ce l'hai, veramente. E il problema della parte superiore del busto è clamoroso in questo fumetto. Nelle figure femminili, in qualche modo, si può camuffare con il seno utilizzando due semicerchi. chi ha fatto un po' di disegno anatomico, in qualche modo, camuffare non è mai una soluzione. E si vede. Però, sulla figura femminile, in qualche modo, lei ce la fa. Sulla figura maschile, no. Anche l'altro personaggio maschile, Yusaku Krakoshi, quello giovanotto, quello è belloccio, non esce, ha dei momenti in cui, però, quello è veramente carino, anche perché è vestito bene. È uno dei pochi personaggi vestiti bene in questo fumetto. È vestito carino e quindi ha degli abiti spesso aderenti e quando gli abiti sono aderenti l'anatomia è più difficile sbagliarla. Mentre Masumi Ayami, che indossa sempre, o quasi sempre, giacca e cravatta, è molto penalizzato perché la giacca ha delle cuciture precise sulla linea delle spalle. sbagliando quelle, sbagliando la posizione delle cuciture, quindi della spalla, si raddoppia l'errore, si raddoppia la visibilità dell'errore. Quindi questo, questo Ayami è veramente maltrattato, veramente, è passato attraverso un tritacarne in questo manga. Mi dispiace dirlo dottoressa Miucci, ma è così, la penso così. Poi c'è il problema della coerenza stilistica di questi personaggi che lei si è un po' persa per strada perché voleva distaccarsi, si capisce, ci sono delle interviste che non so se sono credibili tanto credibili o no. Però lei voleva distaccarsi dallo stile di Ryoko Ikeda, Yumiko Igarashi, queste qui, questo di Giorgi, Candy Candy, Belle di Oscar, eccetera. Ok, ma non andare nella direzione, non ti buttare nel fosso dall'altra parte del fosso. Cioè, non ti buttare pure tu in un'altra parte del fosso, questo buttate rose, cose, fiocchi, trine, merletti, di tutto, di più, ma non fate che Maya sta vestita come se avesse preso gli abiti, sapete, dai contenitori di abiti usati. Io quando vedo questa personaggetta, vi giuro, ho dei momenti che mi si stringe il cuore, dico, aspetta, vieni con me da Terra Nova che andiamo e compriamo degli abiti, ti compro io dei vestiti Maya, perché, come fai a stare vestita sempre in quel, cioè, non è coerente col personaggio, una ragazzina giapponese, sì, povera, perché lei comunque è orfana di padre, poi scappa dalla madre, la mantiene la Tsukiga che è sensei, poi la mantiene il fan delle rose Murasaki, ma nessuna ragazzina ha parità di spesa, cioè, se devi spendere 200 yen per un pantalone una gonna eccetera, si veste in quella maniera, ma neanche se si è andata nel peggior negozio del mondo, quindi, io veramente non so dove abbia preso queste suggestioni, da quale catalogo, da cosa, non credo che nessuna ragazzina per strada in Giappone in quel periodo poteva essere vestita in quella maniera, tanto più che abbiamo l'esempio di Ayumi che è vestita correttamente come qualsiasi ragazzina giapponese di quell'epoca che si veste alla moda occidentale, insomma, con vestiti comodi, che non usa il kimono, ecco, sostanzialmente. Quindi, perché Ayumi è vestita normale e Maya è vestita da pattumiera, non capiamo, io capisco il senso e l'abbiamo capito tutte, perché ormai chi si è comprato e letto Il Grande Sogno di Maya in italiano, i 49 numeri, ha la mia età, l'abbiamo capito, è per dare un senso di qui e ora alla tua personaggia, cioè, lei sta vivendo il suo presente di anni 70, di anni 80, è povera, non vuole andare, non può neanche andare oltre le sue possibilità economiche. Va bene, ma abbiamo capito il senso, ma gli abbigliamenti sono un po' lugubri, tra sandati e fuori, completamente fuori contesto, fuori personaggio, soprattutto per quello che riguarda Maya e anche Masumi Ayami che è diegeticamente paranoico che venga rappresentato sempre e quasi sempre in giacca e cravatta, cioè lo spettatore, la lettrice, la spettatrice, la persona che legge il fumetto, che vede il cartone animato, conosce il personaggio solo per, solo in una fase della sua vita, che è quella del lavoro, giacca, cravatta, shimoto wa, shimoto wa, il mio lavoro, il mio lavoro, ok, lui è un worka orico, quindi lo vediamo spesso, giacca e cravatta, anzi, negli anime hanno, spesso gli hanno fatto togliere la giacca, rimaneva con un bel panciotto, perché lui c'ha i panciotti, il gilet, che, insomma, nell'anime del 2005, veramente, anche lì, come abbigliamento, questo Masumi Ayami, ne esce veramente, proprio ingolfato, da questi, da questi pantaloni, che sembrano anche un po' troppo lunghi, ecco, questi sono errori, questi sono, non sono, non è uno stile, questo è un errore, e questo non può non essere detto, ora, che cosa si sperava, io speravo, dopo aver letto i primi 20 numeri, inizia una collaborazione con qualcuno, fatta aiutarla dove non riesci, queste collaborazioni sono all'ordine del giorno, in Giappone, negli Stati Uniti, ovunque, nel disegno, fatti aiutare da qualcuno, che ha un po' più di mano, sulla, sull'anatomia, non è che ti devi far fare tutto il disegno, tu, fatti correggere quegli errori, che sono un pochettino, un po' più brutti da vedere, senza, che venga, meno, comunque, il tuo segno, un altro errore, è avere, portato la vicenda, graficamente, intendo, di essersi avvicinata ai nostri anni, visto che la pubblicazione tardava così tanto, e veniva diluita così tanto, nei decenni, graficamente, lei ha inserito degli elementi, che sono vicini ai nostri anni, mentre, se ho ben capito, la vicenda raccontata in questo numero, che è l'ultimo pubblicato, anche in Giappone, dovrebbe essere ferma, al 1982-83 circa, quindi non si dovrebbero vedere, cose come cellulari, automobili, accenni grafici, agli anni 90, Goku non era davvero uscito, credo nel 1982, eppure si parla di Dragon Ball, si parla di Goku, per quanto Goku, un personaggio della mitologia cinese, però, il riferimento a Goku, Dragon Ball, era chiaro, non sarebbe potuto esserci, questo, questo è un errore, questo penalizza moltissimo, da un punto di vista narrativo e grafico, questo fumetto, e questi sono, i due errori, da un punto di, due, tre, diciamo, perché, da un punto di vista, proprio la, primo, è, una incertezza, grafica, che pervade l'intera opera, due, l'incoerenza di alcuni personaggi, l'incoerenza grafica di alcuni personaggi, soprattutto di Masumi e Maya, tre, l'inserimento di, elementi grafici che sono successivi alla data della narrazione. Questi sono i tre problemi grafici più importanti, poi ci sono problemi narrativi e di caratterizzazione dei personaggi che sono ben, ben più grossi, ben più grossi, in ogni caso, c'è da dire una cosa, i problemi grafici di questo manga, sono stati ampiamente riscattati dal favore che ha goduto, dal favore di pubblico, quindi se un manga comunque con quei problemi riesce a tenere un fandom, vuol dire che ci sono degli elementi pro molto forti, che vedremo in seguito.